Tiene banco la vicenda degli appalti truccati che ieri ha portato all'arresto di quattro persone, tra le quali un ex dirigente del Comune di Milano e due dipendenti dell'amministrazione. Oggi è il giorno delle reazioni, politiche e no, con la CGL che chiede che si accertino tutte le responsabilità. L'assessore Carmela Rozza lunedì riferirà in Consiglio Comunale. Il sindaco Pisapia ha commentato la sentenza con la quale il Tar Lombardo ha accolto il ricorso di Palazzo Marino contro la decisione del prefetto di annullare le trascrizioni dei matrimoni gay contratti all'estero, come disposto dal ministro Alfano. Vittoria su tutta la linea, ha detto, ora il Parlamento affronti la questione. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, oggi ha visitato il sito espositivo. Il Padiglione Italia, quello della Santa Sede, il Padiglione Zero, tante le installazioni che il prelato ha voluto varcare. Mi pare che in Expo si siano anche sottolineate le ragioni che hanno spinto la Santa Sede a essere presente, ha detto Parolin rispondendo alle domande dei giornalisti. Sono contadini che non hanno ancora festeggiato i 40 anni, sono 2.500 e stanno per arrivare a Milano per partecipare all'incontro organizzato a Expo da Terra Madre. Il Comune ha varato oggi delle agevolazioni per fare in modo che il loro soggiorno sia meno oneroso. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il TGN. Apriamo, come avevamo fatto ieri, con quello che è capitato in Comune, gli appalti truccati. Il giorno dopo è quello ovviamente delle reazioni politiche, ma non solo. La CGL con il suo leader milanese, Graziano Gorla, ha chiesto di fare chiarezza assoluta su quello che è successo. Lunedì l'assessore competente, che è Carmela Rozza, a quelli dei lavori pubblici, sarà in aula, in Consiglio Comunale, a riferire su quanto è successo. Ci riassume tutto Michele Lanati. Fare chiarezza, fino in fondo. Il giorno dopo lo scopio dello scandalo per presunte tangenti che ha coinvolto alcuni dipendenti del Comune di Milano e portato all'arresto di 4 persone e all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 12, da più parti giunge la richiesta di capire esattamente cosa sia successo. Per questo l'assessore comunale ai lavori pubblici Carmela Rozza oggi ha comunicato al Presidente del Consiglio, Basilio Rizzo, l'intenzione di riferire in aula lunedì prossimo. Non solo. Il sindaco Giuliano Pisapia ha ribadito che le mele marce vanno cacciate e precisato che l'ex dirigente Luigi Mario Grillone, che secondo l'accusa sarebbe il dominus degli affari illeciti emersi, era stato rimosso dal primo cittadino tre settimane dopo la sua elezione a Palazzo Marino, perché non lo convinceva il metodo utilizzato per la sua assunzione. Nel frattempo anche la CGL prende posizione e auspica che si arrivi al più presto ad accertare le eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Devo dire che subito di fronte alle vicende del Comune di Milano, di quello che sta accadendo, siamo usciti subito in modo chiaro con un comunicato stampa. Avanti, si faccia pulizia, se ci sono responsabilità si accertino, di ogni genere, perché in questo caso dobbiamo immediatamente dare l'esempio perché non si ripetano più. Nel frattempo però la maggioranza che amministra Milano dal 2011 ci tiene anche a prendere le distanze dalle persone coinvolte nell'inchiesta, precisando che la loro assunzione è avvenuta prima dello sbarco a Palazzo Marino del centro-sinistra. Anzi, quanto emerso dimostra che il lavoro svolto dalla nuova giunta, che ha rivisto molti incarichi, sta andando nella direzione giusta. Beh, è evidente che la rivoluzione fondata sulla questione morale, sulla legalità, che noi abbiamo impresso, trova ancora di più una volta la giustificazione da quanto è accaduto. E poco fa sono arrivati dei dettagli su questa indagine, perché 32 lingotti d'oro, quasi 520 mila euro in contanti, 19 orologi di pregio e oltre 120 monili e oggetti d'oro sono stati sequestrati, hanno un valore di circa 2 milioni di euro, li ha sequestrati la Guardia di Finanza di Milano ai due dipendenti, all'ex manager di Palazzo Marino e all'imprenditore, quindi alle quattro persone arrestate appunto ieri. I beni, abbiamo detto, per un valore di circa 2 milioni, sono stati trovati dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, coordinati dal PM di Milano Luca Poniz, nella disponibilità, quindi in abitazioni e cassette di sicurezza, delle quattro persone arrestate ieri, che domani verranno sentite e verranno interrogate dal GIP di Milano Alfonso Ferraro. Rimaniamo in ambito di cronaca giudiziaria, cambiamo inchiesta, perché il PM di Milano Eugenio Fusco ha ribadito oggi, nel corso dell'udienza preliminare, la richiesta di rinvio a giudizio per il capo della segreteria di Roberto Maroni, Giacomo Ciriello, per Andrea Gibelli, segretario generale del Pirellone e presidente di Ferrovie Nord Milano, e per Mara Carluccio, ex collaboratrice del governatore Lombardo. Tutti e tre sono indagati nell'inchiesta con al centro le presunte pressioni esercitate da Maroni per far ottenere un lavoro e un viaggio a Tokyo a due sue ex collaboratrici, tra cui anche Maria Grazia Paturzo, non indagata, precisiamo. Nel frattempo la società Expo 2015 SPA e il suo direttore generale Cristian Malangone hanno formalizzato stamani la richiesta di essere giudicati con rito abbreviato e la discussione di PM e difesa è stata aggiornata al prossimo 20 novembre. Per Maroni invece, lo ricordiamo, il rito immediato, il processo con rito immediato chiesto dallo stesso governatore per saltare la fase dell'udienza preliminare, inizierà il prossimo primo dicembre. Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha parlato di una vittoria in merito alla sentenza del TAR della Lombardia sulle trascrizioni delle unioni civili all'estero di persone dello stesso sesso nel registro di Stato civile del Comune di Milano. Alberto Carreras fa il punto. È senza dubbio una vittoria per la giunta di Giuliano Pisapia e una sconfitta per il ministro dell'interno Angelino Alfano. I giudici del TAR della Lombardia hanno accolto il ricorso del Comune di Milano per la revoca del decreto del prefetto che aveva annullato, sulla base di una circolare del ministero dell'interno, le trascrizioni effettuate dal sindaco Pisapia dei legittimi matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all'estero. Ha esultato il primo cittadino del capoluogo lombardo che ha detto che è stato pienamente accolto il ricorso inoltrato dall'amministrazione comunale. Il Tribunale amministrativo Lombardo ha reso nullo sia il decreto prefettizio sia il successivo provvedimento del febbraio 2015 di cancellazione delle unioni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero nel rispetto della legge. Pisapia ha aggiunto che questa importante sentenza conferma quanto sempre sostenuto e cioè che la legge prevede l'obbligo di trascrivere nei registri dello Stato civile le nozze celebrate in un paese estero, anche tra coppie omosessuali poiché pienamente legittime sulla base della legge dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. In pratica la circolare che era stata inviata dal ministro Alfano alle prefetture è risultata illegittima e non aderente ai bisogni alle realtà della società di oggi. A questo punto l'amministrazione comunale milanese si augura che il Parlamento approvi rapidamente il disegno di legge che eliminerebbe ogni discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali riconoscendo pari diritti a tutti. Adesso parliamo del dramma dei migranti perché un eritreo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini condotte dal servizio centrale operativo e dalle squadre mobili di Catania e appunto di Milano, l'uomo apparterebbe a un'organizzazione che tra il maggio e il settembre del 2014 ha compiuto 23 viaggi dalle coste libiche all'Italia e sarebbe responsabile di almeno due naufragi. Quello del 13 maggio, vedete le immagini, si riferiscono proprio a quel giorno, costato la vita a 17 passeggeri su 206 e quello del 27 giugno in cui sono morti tutti i 244 migranti a bordo dell'imbarcazione. Una trentina di studenti tra cui alcuni militanti del centro sociale Il Cantiere questa mattina hanno esposto uno striscione a favore dei migranti davanti al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta a Milano, sede tra l'altro degli uffici dell'Unione Europea. Il gruppo si è presentato attorno alle 10 del mattino e ha manifestato per circa un quarto d'ora. Si è allontanato dopo aver acceso un fumogeno, aver distribuito volantini con la scritta Stop War, Refugees Welcome, respingiamo le ignoranze e il razzismo, apriamo le menti e le frontiere. Al termine i manifestanti hanno poi raggiunto in metropolitana i giardini di Porta Venezia dove hanno consegnato abiti agli extracomunitari presenti in zona. L'Expo adesso perché il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolina, ha visitato oggi l'esposizione universale. Tappe delle diverse ore trascorse nel sito espositivo, Palazzo Italia accompagnato dal ministro del Rio, il padiglione della Santa Sede, l'edicola Caritas e infine il padiglione Zero dove ha incontrato anche il commissario unico Giuseppe Sala. Anna Maria Braccini. L'Expo che nei suoi valori profondi esprime le motivazioni per cui la Chiesa ha voluto esservi presente, richiamando temi come la fame nel mondo, il volto dei poveri, la pace che costruisce ponti e non muri. Il segretario di Stato Pietro Parolin visita per un'intera giornata il sito espositivo di Roffiera e queste sono le parole che dice ai cronisti curiosi di sapere le sue impressioni. Va a Palazzo Italia con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano del Rio accompagnato anche dalla delegazione vaticana e poi c'è la delegazione italiana composta tra gli altri dall'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Daniele Mancini da Stefano Gatti, direttore generale di Padiglione Italia. Nel pomeriggio sosta il cardinale nel padiglione della Santa Sede. Mi ha colpito entrando qui soprattutto questa insistenza sulle persone, questa galleria di volti che si vede all'ingresso e poi le mani, quindi l'insistenza sulla persona concreta, non sul problema in termini astratti, in termini teorici, ma sul problema, sulla difficoltà vissuta da ogni persona e da intere popolazioni evidentemente. Poi ancora via percorrendo il decumano, fermandosi spesso verso l'edicola Caritas, dove è molto colpito, dice, e lascia un suo messaggio sul libro d'onore. Io spero appunto che mentre purtroppo si stanno moltiplicando i muri, occasioni come questa possono aiutarci a riflettere che l'unica possibilità di vivere insieme, di vivere insieme umanamente, di vivere insieme felicemente è quella di incontrarci. Infine l'ultima tappa, il padiglione Zero, è qui a fare da Cicerone, padrone di casa, il commissario unico Giuseppe Sala. Il pensiero torna allora, a quanto detto poco prima. E questo mi fa ricordare, ecco, per collegamento anche con quanto il Santo Padre diceva all'ONU, due passaggi fondamentali a mio parere, ecco, che io considero fondamentali. Prima di tutto non trasformiamo i grandi problemi del mondo soltanto in teorie, ecco, ma vediamoli riflessi nel volto di ogni uomo, di ogni donna che vive vicino o lontano a noi. Eccoci, allora avete visto Giuseppe Sala nel servizio di Anna Maria Braccini e Sala ha pubblicato su Instagram, dopo aver parlato di Expo dicendo che il traguardo dei 20 milioni di visitatori è alla portata, ma teniamo i piedi per terra, non cominciamo già a parlare di successo, ha pubblicato questa vignetta di Schulz e fa dire a Snoopy, non puoi sempre alzarti e correre, lo leggete, ricordati che non sei né leone né gazzella e hai pure una certa età. E pubblicandola ha scritto anche Sala, una pausa di riflessione, hashtag presa di coscienza, piedi per terra, sorridere sempre. Può essere un riferimento alla prossima eventuale candidatura sindaco, anche solamente al rush finale che lo aspetta al timone di Expo, non si capisce, è ovvio che il pensiero va anche all'eventuale candidatura per Palazzo Marino e di questo ha parlato anche a Radio Anch'io, lo stesso Giuseppe Sala oggi, dicendo che lui non ha mai incontrato Renzi, non ha mai parlato di questo con Renzi, poi io non potrei andare via da Expo il primo di novembre, ho ancora davanti tre mesi di lavoro, a Natale faccio le vacanze e poi si vedrà. Restiamo a Expo perché 2.500 contadini e produttori, tutti under 40, stanno per arrivare a Milano in vista del grande incontro che si darà appunto negli spazi del Padiglioni Espositivi organizzato da Terra Madre sulla sostenibilità ambientale e alimentare. Vediamo. I problemi dell'ambiente, del cibo e delle produzioni alimentari saranno al centro di una serie di incontri ad Expo dal 3 al 6 ottobre. All'esposizione universale convergeranno 2.500 giovani produttori sotto i 40 anni che arriveranno da ogni parte del mondo nell'ambito dell'iniziativa Terra Madre. Ricordiamo che Terra Madre è stata lanciata da Slow Food per far emergere le realtà locali di allevatori, agricoltori, pescatori e cuochi che con la loro attività lavorano per una nuova gastronomia rispettosa dei valori e delle culture locali e soprattutto delle produzioni del territorio. C'è l'idea di una città che accoglie contadini e produttori e gente che lavora davvero la terra e non ne parla e basta da tutto il mondo, un po' anche a prescindere dalle loro condizioni, anzi in alcuni casi proprio aiutando chi è in difficoltà e quindi gioca una partita sia di contaminazione di culture positiva sia di incontro proprio tra storie diverse, anche una nuova generazione se vogliamo molto lontana dagli stereotipi. Visto l'arrivo nel capoluogo lombardo di migliaia di contadini provenienti da tutto il mondo, oggi il Comune di Milano ha annunciato la collaborazione con Airbnb Italia, organizzazione online che permette ad ognuno di affittare il proprio appartamento per occasioni di questo tipo. E questo è un ulteriore passaggio che facciamo ospitando questi contadini che arriveranno qui per la conferenza Terra Madre Giovani. Di questi Airbnb ne ha fornito ospitalità gratuita tramite la nostra community per circa 40 e ha chiamato a raccolta il supporto della community stessa per ospitare gli altri contadini che arriveranno a dei prezzi calmierati. Più di 80 dei nostri appartamenti sono stati messi a disposizione dagli host e questi ospiteranno quindi a dei prezzi calmierati le persone che arriveranno qui per Terra Madre Giovani. Torniamo alla cronaca per un momento perché i servizi sociali del Comune di Milano hanno depositato al Tribunale per i minorenni la relazione sul nucleo familiare composto da Martina Levato e Alexander Böcher condannati a 14 anni per un'aggressione con l'acido e sotto processo per altri blitz simili e dai loro rispettivi genitori nell'ambito del procedimento di adottabilità del figlio della coppia nato lo scorso ferragosto. A questo punto dopo che le parti interessate avranno avuto accesso al fascicolo del procedimento i giudici daranno tempo ai loro legali di depositare memorie e fisseranno un'udienza per la discussione, le istanze e poi la decisione. Da quanto si è appreso inoltre i giudici potrebbero anche ascoltare la Levato e Böcher prima di decidere anche perché in base alle norme è un loro diritto poter parlare di fronte al Tribunale. Nuovo attacco al murale Niguarda antifascista, lo vedete qua nelle immagini, in via Majorana all'angolo con via Graziano Imperatore a Milano. L'ampi provinciale di Milano esprime la propria profonda condanna, questa volta l'ignobile gesto che offende Milano, capitale della resistenza, porta la firma dei neofascisti di Forza Nuova. È la quarta volta in meno di un anno che gruppi della destra eversiva attuano questa gravissima provocazione avvenuta a distanza di una sola settimana dalla devastazione dell'istituto pedagogico della resistenza di cui vi avevamo già parlato. Ancora buona la situazione per gli anziani oggi ma sono tante le incertezze e le probabili difficoltà per il futuro. È uno degli elementi emersi nel corso della presentazione dell'indagine sulla terza età fatta stamane dalla CGL alla Camera del Lavoro di Milano. Benessere, autonomia, servizi e aspettative degli anziani che vivono nell'area metropolitana milanese. Il sindacato pensionati della CGL ha presentato i risultati di una ricerca realizzata dal consorzio Aster nel 2015 sulla longevità e cambiamenti urbani a Milano e provincia. Nel 2013 gli ultra 65 anni nell'area metropolitana erano 710.000 pari al 22% dei residenti, il 3,2% in più di 10 anni prima, 200.000 le persone con oltre 80 anni di cui 132.000 donne. L'indagine ha evidenziato che il 55% degli anziani è composto da coppie senza figli o altri conviventi. Il 29% è costituito da single, l'11% da coppie con figli. Per la maggior parte si tratta di ex operai o ex impiegati. Gli anziani nella loro partecipazione ad attività sociali si reccano soprattutto in centri commerciali, associazioni di volontariato e poi cinema, teatri e circoli ricreativi. Sull'area metropolitana che verrà iniziano i problemi perché ovviamente diventa una dimensione di area vasta in cui il problema della solitudine, dei quartieri, delle periferie e della sicurezza incominciano ad apparire. Quindi direi che il quadro è di una sostanziale tenuta per l'oggi ma di una problematicità drammatica per il futuro. Nei prossimi decenni avremo un anziano, ogni tre abitanti, ogni tre cittadino un anziano per cui noi dobbiamo analizzare la condizione dell'anziano. Nella volgata comune si dice che l'anziano è un costo, è un costo per le pensioni, è un costo per quanto riguarda la sanità. Noi pensiamo che invece ci siano le condizioni per che l'anziano, la condizione dell'anziano sia in qualche modo analizzata per quella che realmente è. Quindi dobbiamo prendere atto che c'è un mutamento demografico. Diamo spazio ad AIRC adesso, partendo da un dato, cioè le 63 mila donne colpite da un tumore femminile ogni anno in Italia. I costanti progressi della ricerca oncologica nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura hanno consentito però a moltissime donne di superare la malattia. I dati più recenti confermano infatti che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi per i tumori femminili è migliorata notevolmente, ma tra le donne di ogni età deve ancora radicarsi la consapevolezza dell'importanza di aderire agli screening raccomandati e di adottare stili di vita corretti. Per questo nel mese di ottobre, universalmente riconosciuto come il mese della lotta contro il tumore al seno, l'Associazione Italiana per la Ricerca Sul Cancro promuove, in collaborazione con vari marchi e vari eventi, che adesso citeremo, la campagna Insieme Contro i Tumori Femminili, che prevede numerose iniziative per sensibilizzare le donne sul fondamentale ruolo della prevenzione e raccogliere anche fondi a sostegno della migliore ricerca oncologica italiana. Nel mese di ottobre Esteloder Italia, quando venderà una selezione dei suoi prodotti, parteciperà a raccogliere appunto dei fondi per AIRC, così come Nuvenia, che cederà 10 centesimi ad AIRC per ogni prodotto acquistato durante questo mese, poi Arroccafè, che è uno storico marchio che venderà magliette e il ricavato anche qui verrà dato in parte all'Associazione Italiana Ricerca Sul Cancro. Alla Festa del Cinema di Roma, dal 16 al 23 ottobre, ci saranno una serie di eventi per sensibilizzare appunto sullo screening e poi domenica 25 ottobre la Venice Marathon sarà protagonista anche qui l'AIRC e ci sarà la possibilità anche con una piattaforma di crowdfinding che affianca l'evento sportivo di raccogliere ancora altri fondi. Presentata oggi invece la nuova edizione di Book City, che dopo la grande partecipazione di pubblico dello scorso anno, quest'anno si rinnova e viene anticipata per accompagnare la conclusione di Expo. Parte giovedì 22 ottobre la quarta edizione di Book City Milano, l'iniziativa culturale dedicata ai libri che si disloca in 200 spazi della città metropolitana con base al Castello Sforzesco e si concluderà domenica 25. La manifestazione prevede oltre 820, la maggior parte dei quali gratuiti, tra incontri, dibattiti, presentazioni, spettacoli e mostre. Il tutto in un anno particolare per il capoluogo Lombardo, che ha dedicato grande attenzione al tema della lettura. Arriviamo alla conclusione di sei mesi di Milano, città del libro e della lettura, con l'appuntamento più importante che Milano dedica al libro. Quest'anno il programma ha ulteriori forme di innovazione, di trasformazione, di un formato che ha già avuto un grandissimo successo, con la volontà di rendere il fenomeno della lettura sempre più inclusivo, sempre più aperto a tutte le cittadine e cittadine di Milano, soprattutto a quelli che dalla lettura sono stati fino ad oggi esclusi. Tra gli eventi previsti anche una conversazione sulla buona politica, che si terrà domenica 25, tra la Presidente della Camera Laura Boldrini e il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia. E poi tante iniziative che si intrecciano con Expo, col mondo dell'università, della giustizia, del carcere e degli ospedali. Insomma una serie di approfondimenti su temi di cui si parla poco o in modo spesso superficiale, che rappresentano però il cuore pulsante di una manifestazione che nelle tre precedenti edizioni ha riscosso grande successo. Eravamo partiti quattro anni fa proprio in questa sala conferenze, dopo un mese di frenetica attività, con molti dubbi e molte preplessità, stavamo entrando in un periodo di crisi del libro, però volevamo fare qualcosa per Milano, che oltre alla capitale della moda, della finanza e del design, è anche la capitale del libro. Ci siamo impegnati e la cosa funziona. Questa sera la Juventus in Champions League, quindi davvero subito la linea a Nova Stadio. Buona serata da parte mia sugli schermi di Telenova. Grazie a tutti. Grazie a tutti.